11. La poltrona è stata trascinata fino alla porta, all'altra estremità della sala. La nonna era raggiante. Tutti i nostri le si sono affollati intorno congratulandosi con lei. Per quanto fosse stato eccentrico il comportamento della nonna, tuttavia ormai il trionfo conseguito copriva tutto e il generale non aveva più paura di compromettersi mostrando in pubblico di essere legato da rapporti di parentela con una donna così strana. Con un sorriso pieno di condiscendenza e di confidenziale allegria è andato a congratularsi con la nonna, più o meno come si fa con un bambino. Del resto anche lui, come tutti gli altri spettatori, era rimasto straordinariamente colpito. Intorno tutti mormoravano e si indicavano la nonna vicenda. Molti addirittura le passavano accanto solo per guardarla in faccia. Mr. Astley, un po' in disparte, parlava di lei con due inglesi suoi conoscenti. Certi spettatori d'alto rango, delle grandi dame specialmente, consideravano la nonna con dignitosa meraviglia, come se si trattasse di una bestia rara. De Griot si profondeva in sorrisi melati e congratulazioni. Quelle victoire, ripeteva. Mais madame, c'était du feu, ha aggiunto mademoiselle Blanche con un sorriso accattivante. Ecco, mi sono seduta e ho vinto dodicimila fiorini. Ma che dico dodicimila? E l'oro allora? Con l'oro faranno quasi tredicimila. Quanto sarebbe nella nostra moneta? almeno un 6.000 rubli, vero? Ho dichiarato che faceva più di 7.000 e al corso attuale forse addirittura 8.000. Che te ne pare uno scherzo? 8.000 rubli! E voi, scimuniti, ve ne state seduti qui senza far niente. Potapic, Marfa, avete visto? Mammina nostra, e come avete fatto? 8.000 rubli! ha esclamato Marfa contorcendosi tutta per dimostrare la propria gioia. Ecco qua, cinque monete d'oro per uno, prendete. Potapic e Marfa si sono precipitati a baciarle la mano. Date un Federico a testa anche ai portatori. Su, dagli una moneta d'oro per uno, Alexei Ivanovic. E perché quella che si inchina? E anche quell'altro? Mi salutano, dà anche a loro un Federico a testa. Madame la princesse. Un pauvre expatrié? Malheur continuel? Les princes russes sont, sì, generaux, diceva uno strano personaggio baffuto, con un logoro pastrano e un variopinto panciotto addosso, profondendosi in inchini accanto alla poltrona, con il capello in mano e un sorriso servile sulle labbra. Dà anche a lui un Federico. Anzi, due. E ora basta, altrimenti non ce ne liberiamo più. Su, sollevatemi, andiamo. Prascofia! Ha aggiunto la nonna, rivolgendosi a Paulina Alexandrovna. Domani ti compro un taglio per un vestito. E anche a quella mademoiselle, come si... Ah sì, mademoiselle Blanche. Anche a lei lo compro. Traduciglielo, Prascofia. Merci, madame. Ha ringraziato inchinandosi graziosamente mademoiselle Blanche, storcendo la bocca in un ironico sorriso all'indirizzo di De Grio e del generale. Il generale era un po' imbarazzato e mi è parso straordinariamente contento quando siamo arrivati sul viale. E Fedosia? Chissà come si meraviglierà Fedosia, diceva la nonna pensando alla bambinaia del generale. Bisognerà regalare un abito anche a lei. Ehi tu, Alexei Ivanovich, Alexei Ivanovich, fa l'elemosina a quel poveraccio. Per il viale stava passando uno straccione, tutto curvo, che ci guardava. Ma forse, nonna, questo non è neppure un mendicante, ma un briccone qualsiasi. Ma tu fagli l'elemosina, dagli un fiorino. Mi sono accostato all'ostracione porgendogli una moneta d'oro. Quello mi ha guardato con una specie di selvaggia meraviglia, ma tuttavia l'ha presa. Puzzava terribilmente di vino. E tu, Alexei Ivanovich, non hai tentato ancora la fortuna? No, nonna. Eppure anche a te brillavano gli occhi. Ti ho visto. Ma io la tenterò, nonna, la tenterò immancabilmente. E punta subito sullo zero. Vedrai. Quanto hai di capitale? Ho venti federici in tutto, nonna. Non è molto, ma se vuoi posso prestarti cinquanta federici. Ecco, prenditi questo rotolo. Ma tu, babbino, non stare ad aspettare. Tanto non ti do niente. Ha aggiunto rivolgendosi bruscamente al generale. Il generale è parso sconvolto, ma non ha detto una parola. De Griot si è accigliato. Che diable, sei un terrible vieille. Ha sussurrato tra i denti al generale. Un povero, un povero, un altro povero. Si è messa a gridare la nonna. Alexei Ivanovich dà un fiorino anche a lui. Questa volta si trattava di un vecchietto dai capelli bianchi, con una gamba di legno, un lungo soprabito azzurro addosso e un lungo bastone in mano. Aveva l'aspetto di un vecchio soldato, ma quando gli ho porto un fiorino, quello ha fatto un passo indietro fulminandomi con uno sguardo minaccioso. «Was ist der Teufel?» ha gridato il vecchio, aggiungendo a quella esclamazione un'altra dozzina di complimenti dello stesso genere. «Ma guarda che sciocco! ha gridato la nonna, facendo un gesto all'indirizzo del vecchio. Andiamo avanti, mi è venuta fame. Ora si pranza, poi mi sdraio un po' e poi si torna là!» «Lei vuole giocare ancora, nonna!» ho esclamato io. «E tu cosa credevi? Voi ve ne state qui, seduti ad ammuffire, e io dovrei starvi a guardare?» «Mais madame!» ha preso a dire De Griot avvicinandosi. «Le chance peuvent tourner? Une seule mauvaise chance vous perdrez-tu? Surtout avec votre jeu. C'était terrible!» «Vous perdrez absolument!» ha cinguettato mademoiselle Blanche. «E a voi che ve ne importa? Non perdo mica i vostri soldi, ma i miei! E dov'è quel mister Astley?» ha chiesto poi, rivolta a me. «È rimasto al casino, nonna!» «Peccato! Una così brava persona!» Arrivata a casa, la nonna, incontrando il metr sulla scala, l'ha chiamato e si è vantata con lui della sua vincita. Poi ha chiamato Fedosia, le ha regalato tre federici e le ha ordinato di mettere in tavola. Durante il pranzo, Fedosia e Marfa si profondevano in complimenti. «Io, mammina, vi guardavo!» ci calava Marfa. «E dicevo a Potapic, ma cosa vorrà mai fare la mammina nostra? Sul tavolo c'erano tanti, ma tanti di quei soldi! Santi del paradiso, in vita mia non ho mai visto tanti soldi! E tutti intorno c'erano tanti signori, solo signori! E allora ho chiesto a Potapic, di dove verranno tutti questi signori? E intanto pensavo che la madonna la aiuti, la padrona nostra. Pregavo per voi, mammina, e mi sentivo morire, e tremavo, sapete, tremavo tutta. Aiutala, signore, pensavo, e davvero il signore vi ha aiutata. Ma ancora adesso, mammina, ancora adesso tremo tutta quanta». Alexei Ivanovich, dopo pranzo, verso le quattro, preparati e torneremo là. Per adesso addio. Ma non dimenticarti di mandarmi un dottore, bisognerà pure che faccia la cura delle acque, altrimenti c'è il caso di dimenticarsene. Sono uscito dall'appartamento della nonna come intronato. Cercavo di immaginarmi cosa sarebbe successo ora dei nostri e quale verso avrebbero preso le cose. Vedevo chiaramente che i nostri, e soprattutto il generale, non erano ancora riusciti a riprendersi neppure dalla prima impressione. Il fatto dell'improvvisa apparizione della nonna, invece del telegram, atteso di ora in ora, che annunciasse la sua morte e quindi anche l'eredità, aveva a tal punto scombussolato tutto il complesso dei loro piani e delle loro decisioni, che essi poi avevano reagito alle prodezze compiute dalla nonna alla roulette, con una completa apatia e un torpore che li aveva contagiati tutti quanti. Eppure questo secondo fatto era quasi più importante del primo, già che anche se la nonna aveva ripetuto due volte al generale che non gli avrebbe dato del denaro, tuttavia non si poteva mai esserne sicuri e non si dovevano perdere tutte le speranze. Non le aveva certo perdute De Grio, implicato come era in tutte le faccende del generale. Ero convinto che neppure Mademoiselle Blanche, anche lei così interessata alle faccende del generale, lo credo bene il titolo di generalessa e una cospicua eredità, aveva perduto tutte le speranze e avrebbe certo tentato sulla nonna tutte le seduzioni della civetteria, a differenza di Polina, così caparbia e incapace di adulazione. Ma ora, ora che la nonna aveva compiuto tali imprese alla roulette e ora che la sua personalità si era disegnata in modo così chiaro e rilevato davanti ai loro occhi, una vecchia ostinata, autoritaria e tombea non fons, ora forse tutto era davvero perduto, già che la nonna era contenta come un bambino di essersi emancipata e ora, come capita, avrebbe perduto fino all'ultimo soldo. Dio mio, ho pensato fra me e perfino il Dio me lo perdoni con una specie di gioia maligna. Dio mio, ogni Federico puntato dalla nonna doveva pesare come una pietra sul cuore del generale. Doveva mandare in bestia de griot e far infuriare Mademoiselle de Cominge che si vedeva togliere il boccone di bocca. E c'è ancora un fatto. Anche dopo aver vinto, persino nella gioia del trionfo, quando la nonna distribuiva denaro a tutti e prendeva ogni passante per un mendicante, ebbene, anche allora le era sfuggita quella frase diretta al generale. Tanto non ti do niente. Ciò vuol dire che lei si era fissata su quell'idea, se l'era ficata bene in testa e l'aveva giurato a se stessa. Ciò è pericoloso. Molto pericoloso. Tali erano i pensieri che mi passavano per la testa mentre uscito dall'appartamento della nonna salivo per la scala di parata alla mia cameretta dell'ultimo piano. Tutto ciò mi interessava fortemente. Sebbene naturalmente anche prima fossi in grado di individuare i fili più grossi della trama, che collegavano tra loro i vari attori, tuttavia non conoscevo fino in fondo tutti gli aspetti e i segreti di quel dramma. Polina non mi aveva mai dimostrato una completa fiducia. Sebbene qualche volta accadesse, è vero, che lei mi aprisse quasi involontariamente il suo cuore, tuttavia mi ero accorto che spesso, anzi quasi sempre, dopo tali confidenze lei volgeva in scherzo tutto ciò che aveva detto, o lo confondeva a bella posta allo scopo che ne risultasse una diversa apparenza. Lei mi nascondeva molte cose. In ogni caso presentivo che si stava avvicinando l'ultimo atto di quella trama così tesa e misteriosa. Ancora un ultimo colpo e sarebbe tutto finito. Tutto sarebbe stato svelato. Della mia sorte, per quanto io pure fossi interessato a tutto ciò. Non mi preoccupavo quasi affatto. Mi sentivo in una strana disposizione di spirito. Avevo in tasca in tutto venti federici. Mi trovavo lontano, in un paese straniero, senza impiego e senza mezzi di sostentamento, senza speranze né prospettive, eppure non me ne preoccupavo. Se non fosse stato il pensiero di Polina, mi sarei tranquillamente abbandonato all'aspetto comico dello scioglimento che si preparava e ne avrei riso a più non posso. Ma il pensiero di Polina mi turbava. Il suo destino stava per risolversi. Questo lo sentivo, ma lo confesso. Non era affatto il suo destino a preoccuparmi. Volevo soltanto penetrare tutti i suoi segreti. Avrei voluto che lei venisse da me e mi dicesse, ma io ti amo. Ma se questo non era possibile, se tutto ciò era soltanto un'assurda follia, ebbene allora, cosa mi restava da desiderare? Forse sapevo cosa desideravo io stesso? Io da solo mi sentivo smarrito. Volevo soltanto esserle accanto. Vivere nella sua aureola, nella sua luce, per sempre, per tutta la vita, per l'eternità. Non sapevo nient'altro. E allora, come potevo allontanarmi da lei? Al secondo piano, nel corridoio dove si apriva la porta del loro appartamento, improvvisamente mi è parso come se qualcuno mi desse una spinta. Mi sono voltato e a venti passi di distanza, o anche di più, ho scorto Polina che usciva dalla porta. Sembrava che mi stesse aspettando, espiando la mia venuta, e subito mi ha fatto cenno. Polina Aleksandrovna, ho cominciato. Piano, mi ha interrotto lei. Si immagini che proprio ora mi è parso come se qualcuno mi desse una spinta nel fianco. Ho continuato sottovoce. Mi volto e la vedo. Proprio come se da lei emanasse una corrente elettrica. Prenda questa lettera. Mi ha detto Polina con aria seria e accigliata. Probabilmente senza neanche sentire quello che avevo detto. E la consegni personalmente a Mr. Astley. Ma subito, la prego, non c'è risposta. Lui stesso? Non ha terminato la frase. A Mr. Astley? Ho chiesto stupito. Ma la porta si era già richiusa dietro di lei. Ah, dunque sono in corrispondenza. Naturalmente son corso subito a cercare Mr. Astley. Dapprima al suo albergo, dove non l'ho trovato. Poi al casino, dove ho girato inutilmente per tutte le sale. E finalmente, mentre me ne tornavo a casa contrariato e quasi disperato, l'ho incontrato per caso. A cavallo. In una comitiva di signore e signori inglesi. Gli ho fatto cenno, l'ho fermato e gli ho consegnato la lettera. Non abbiamo nemmeno fatto a tempo a guardarci in faccia. Ma sospetto che Mr. Astley abbia di proposito spronato al più presto il suo cavallo. Mi tormentava forse la gelosia? Mi sentivo completamente prostrato. Non avevo neppure voglia di sapere di che cosa si scrivessero. Dunque lui era la sua persona di fiducia. Certo, è un suo amico, pensavo. Questo è chiaro. Ed è anche chiaro quando lo è diventato. Ma c'è anche l'amore? Di mezzo? Mi chiedevo. E la ragione rispondeva. Naturalmente no. Ma il guaio è che in certi casi la ragione non basta. Comunque era una cosa che bisognava chiarire. La faccenda si complicava spiacevolmente. Ero appena entrato in albergo che il guardaportone e lo stesso maître, uscendo apposta dalla sua stanza, mi hanno comunicato che chiedevano di me. Mi avevano cercato e già tre volte avevano mandato a chiedere dov'ero. Mi pregavano di recarmi al più presto nell'appartamento del generale. Mi trovavo in quel momento nella peggiore disposizione di spirito. Nello studio del generale, oltre al generale stesso, ho trovato anche De Griot e Mademoiselle Blanche, da sola, senza madre. La madre decisamente era solo un personaggio posticcio che serviva solo per le apparenze. Quando c'era da trattare un affare serio, Mademoiselle Blanche agiva immancabilmente da sola. E probabilmente quella vecchia sapeva ben poco delle faccende della sua pretesa figliola. I tre si stavano consultando animatamente su qualcosa e la porta dello studio era addirittura chiusa, cosa che non accadeva mai. Accostandomi alla porta, ho sentito parlare ad alta voce. La voce causticamente insolente di De Griot, il falsetto sfacciato e furioso di Blanche, e la voce umile del generale che evidentemente si stava giustificando per qualcosa. Alla mia comparsa tutti si sono trattenuti e in un certo modo ricomposti. De Griot si è aggiustato i capelli e ha atteggiato al sorriso il suo viso irritato. Quel sorriso detestabile, tipicamente francese e falsamente cerimonioso che io odio tanto. Il generale, che aveva un aspetto così affranto e smarrito, ha cercato macchinalmente di prendere un'aria sostenuta. Mademoiselle Blanche è stata l'unica a non modificare quasi affatto la sua espressione ribollente di sdegno e si è limitata a tacere, fissando su di me uno sguardo pieno di un'attesa impaziente. Devo osservare che fino a quel momento lei mi aveva trattato con un disinteresse addirittura incredibile. Arrivava perfino a non rispondere ai miei inchini. Semplicemente non si accorgeva di me. Alexiej Ivanovic, ha cominciato a dire il generale col tono di chi vuol fare una paternale. Permetta che le dichiari che è strano, strano al più alto grado che, in una parola, il suo modo di procedere nei confronti miei e della mia famiglia, in una parola, è strano al più alto grado. Eh, se ne passa, l'ha interrotto De Grio in tono sprezzante e indispettito. Decisamente era lui che aveva la direzione di tutto. Mon cher monsieur, notre cher général se trompe ad assumere questo tono. Traduco il suo discorso in russo. Ma lui voleva dirle, o meglio voleva preavvisarla, o meglio ancora pregarla nel modo più impellente di non rovinarlo. Sì, di non rovinarlo. Mi servo espressamente di questa parola. Ma in che modo? In che modo? L'ho interrotto. Mi scusi, ma lei ha assunto l'incarico di far da guida, non so come dirlo diversamente, a questa vecchia. Cette pauvre, terrible vieille, ha risposto De Grio, cominciando un po' a impappinarsi. Ma il fatto è che quella perderà tutto. Perderà fino all'ultima copeca. Lei stesso lo ha visto. Lei stesso è stato testimone di come gioca quella vecchia. Se comincerà a perdere, quella rimarrà attaccata al tavolo da gioco per testardaggine, per rabbia, e continuerà a giocare, a giocare, a giocare. In casi di questo genere non succede mai che si rifaccia di quel che si è perso. E allora? Allora? E allora, è intervenuto il generale, lei rovinerà tutta la famiglia. Io e la mia famiglia siamo i suoi eredi. Lei non ha parenti più prossimi. Glielo dirò francamente. I miei affari sono dissestati. Gravemente dissestati. Del resto, in parte, lei stesso ne è al corrente. Se la zia perderà una somma notevole o addirittura i dio non voglia tutte le sue sostanze, allora cosa accadrà di loro? Dei miei figli. Qui il generale ha gettato un'occhiata a De Grio. E di me? E qui ha guardato Mademoiselle Blanche, che si è voltata sprezzantemente dall'altra parte. Alexei Ivanovic, ci salvi. Ci salvi tutti. Ma in che modo, generale? Mi dica, in che modo io potrei... che ruolo ho io in questa faccenda? Si rifiuti di accompagnarla. La abbandoni! E allora troverà qualche di un altro. Se ne passa, se ne passa, che diable! È intervenuto di nuovo De Grio. No, lei non deve abbandonarla, ma deve esortarla, convincerla, dissuaderla. Insomma, lei non deve permettere che perda troppo. Cerchi di dissuaderla in qualche modo. Ma come posso farlo io? Se ne volessi occupare lei stesso, Monsieur De Grio, ho replicato nel tono più ingenuo che mi è stato possibile trovare. A questo punto ho colto una fulminea, incandescente occhiata interrogativa, rivolta da Mademoiselle Blanche a De Grio. E sul volto dello stesso De Grio ebbe allenato qualcosa di particolare, qualcosa di sincero, che egli non è riuscito a trattenere. «Ma è questo! È proprio questo! Che lei ora non mi accetta!» ha esclamato De Grio con un gesto della mano. «Chissà se... in seguito...» E qui De Grio ha gettato una breve e significativa occhiata a Mademoiselle Blanche. «Oh, mon charme, monsieur Alexis, suoi esibon!» E Mademoiselle Blanche in persona mi si è accostata con un sorriso ammaliatore. Mi ha preso tutte e due le mani e me le ha strette con forza. «Che il diavolo mi porti!» Quel suo viso diabolico era capace di trasformarsi completamente in un istante. In quel momento il suo viso aveva assunto un'espressione così graziosamente supplichevole, così infantilmente sorridente e perfino birichina. Verso la fine della frase mi ha perfino ammiccato furbescamente, di nascosto dagli altri. Voleva dunque vedermi subito in ginocchio. La mossa non era stata nemmeno eseguita troppo male, ma comunque era volgare, terribilmente volgare. Il generale si è precipitato dietro di lei, letteralmente precipitato. «Alexei Ivanovich, mi perdoni se poco fa ho preso a parlarle in quel tono. Non volevo proprio dire questo. Io la prego, la supplico, mi inchino fino a terra davanti a lei all'uso russo. Lei è l'unico, l'unico che ci può salvare. Mademoiselle de Cominge e io la scongiuriamo. Lei mi capisce. È vero che lei mi capisce». Il generale mi supplicava e mi indicava con gli occhi Mademoiselle Blanche. Faceva davvero molta pena. In quel momento sono stati battuti alla porta tre colpi leggeri e rispettosi. La porta è stata aperta. Chi bussava era il servitore di corridoio e dietro di lui, a qualche passo di distanza, stava Potapic. Portavano un messaggio della nonna. C'era l'ordine di ritrovarmi.